Benvenuti su Veglie Games, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. Cerchiamo la ragazzina, dobbiamo fermarla. Sono certo che la rivedremo presto. Può sembrare folle, ma... Forse, se riusciamo a salvare i nostri sosia dall'esecuzione, sopravvivremo anche noi. Io sono stata attaccata dopo... Lucciole! Ecco spiegato il bagliore. Ha un certo fascino, non pensi? Che fenomeno strano. No, non può essere. Non credo ai miei occhi. Chiedo Venia per la tarda ora, ma dobbiamo interloquire. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary. Sono in pensiero... A causa del suo ruolo nei processi. Sono strazianti, è vero? Non solo quello. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne. Sei certo? Lo sono. Ma quando dice distruggersi al rimorso, è arduo non crederle. Stai lontano da lei, Abram. Quella bambina porta soltanto guai. Troppo tardi. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Il tuo buon cuore ti pone in grave pericolo. Cosa mi consigli? Riferisci alla corte della sua dubbia, Fede, che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Non saprei. Mary sembra dispiace... Se nascondi i tuoi dubbi, la comunità ne pagherà il prezzo. Nessuno è al sicuro dei suoi paneggiametti. Molto bene. Se la corte ascolterà, testimonierò. Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla. Per indurmi al silenzio. Soltanto il diavolo può partorire un demone identico a me. Non sono un demone. Ma ci somigliamo e sono d'accordo. È davvero molto strano. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare. Ma ora sono indeciso. So che hai paura. Ma devi parlare. Dire cosa ha fatto la bambina. Come dice il tuo amico. Vi manda il diavolo per tentarmi. Ma non soccomberò. Little Hope è ormai irriconoscibile. I fenomeni oscuri e inspiegabili sono all'ordine del giorno. E voi, chiunque siate, ne fate parte. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico. Ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. Non è giusto incolpare una bambina. È quel prete il manovratore occulto. No, ti sbagli. Fermiamo la bambina. Non c'è altro modo. Il reverendo Carver è un uomo timorato di Dio. Ciò non si discute. Mossa sbagliata. Difendere la bambina ci costerà caro, e lo sai. Spero ti sbagli. Per il nostro bene. Che è successo? Siete riusciti a incontrare Mary? No, non l'abbiamo vista. Merda. Il sosia di Andrew, Abram. Stava pensando di voler testimoniare contro Mary, ma Andrew l'ha convinto a rinunciare. Una mossa astuta. Non posso crederci, cazzo. Stiamo assistendo a eventi che sono avvenuti centinaia di anni fa. Non bene. Demoni dal passato? Sono stanca di questa situazione di merda. C'è una cosa che mi ha sorpresa, sentirmi parte della squadra. Ed è bello. Non mi era mai successo. Sì, ti capisco. Anch'io ho imparato molto. Ma ci sono voluti demoni e fantasmi. Avrebbe fatto comodo un... Come si chiama? Un paladino? Un chierico? Cazzo! Non sapevo ti piacessero i videogiochi. Ci sono un sacco di cose che non sai. Sono piena di sorprese. Vedrai. Dobbiamo andare. Taylor! Aiuto! Daniel! Taylor! Dove sei? Taylor! Taylor! Sei tu? Tieniti forte e non mollarmi per nessun motivo. Lasciami, mettiti in salvo con gli altri! Oh! 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 Chi cazzo era quello? Andiamo a vedere Usciamo da questo maledetto bosco Parleremo per strada Andiamo a vedere Chi è successo con quella cosa? Qualunque cosa fosse, non ritornerà Spero di no È solo questione di tempo prima che ritorni, no? Non è una prospettiva molto incoraggiante Ci sarà un modo per fermare la bambina Forse abbiamo già perso la nostra occasione Potevi smascherare Mary, rivelando quello che è Bugiarda e falsa Costringerla a rispondere Perché non l'hai fatto? Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere utile È solo una teoria Un'altra teoria era bruciare una bambola per cacciare Mary E sappiamo com'è andata Sarà solo una teoria, ma per ora non abbiamo altro Abbiamo una sola occasione Se la sprechiamo non ne avremo altre È finita, quindi sono pronta davvero a tutto Forza Diamo un'occhiata Diamo un'occhiata Un'occhiata Venite a vedere Ehi! È pericoloso Dubito si renda conto in che casino siamo Presto, entriamo Beh, è abbandonata da parecchio tempo È giunta l'ora che io parli al giudice La paura mi opprime Non so come sarà accolta la mia testimonianza Il diavolo spesso affosca la capacità di giudizio delle persone Non ne verrà nulla di buono Le sue parole vogliono tradire la verità È compito mio decidere il vero Abraham e Joseph sono complici in questo inganno E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte O siete pentito della decisione? Dopo quanto appreso oggi Continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove Mio dovere, giudice Tuttavia, questa corte è tenuta per legge a cercare la verità Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abraham contro Mary Mi permetta una parola, giudice Wyman Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male Pochi hanno tale coraggio Eppure, nonostante abbia svelato una pericolosa congrega viene infangata Il suo coraggio è in dubbio Ma dobbiamo apurarne le intenzioni L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove Chi proponete come tutore, reverendo? Io posso assumermi la responsabilità della bambina se la corte approva La corte ascolterà le parole di Abraham e solo in seguito prenderà una decisione Abraham! Che cosa devo fare? Secondo alcuni dovrei denunciare Mary ma può una bambina essere tanto malvagia? È difficile Lo sarebbe per chiunque Mary è una bambina Illustra la corte perché sei qui Parla, ragazzo Avanti! Mary ha parlato di spiriti maligni Sortileggi e stregoneria Eventi che molti ritengono impossibili Non sono qui per ascoltare pettegolezzi Avanti, giungi al punto Mary è tormentata Le apparizioni che ha visto l'hanno straziata Minandone l'innocenza Alcuni affermano che sia complice di queste creature Ma nessuno ne è certo Io meno di tutti Chi mai potrebbe decifrarne la giovane mente Mi accusi di non essere in grado di distinguere la verità? Chiedo perdono Non insinuerei mai questo Non ho tempo da perdere Per oggi ne ho abbastanza Di te e del sacerdote Non avrei concluso Ti ho concesso fin troppo tempo Inoltre, Mary sarà affidata alle cure del reverendo Carver Ora puoi andare Raccontatemi C'era di nuovo il sosia di Andrew Ha detto al giudice che Mary è innocente Che è... Una vittima anche lei No Male Molto, molto male Merda Ora che succede? Questo ci aiuterà Per forza Ora sappiamo che possiamo alterare gli eventi Cosa pensi? Ha ragione lui? È andata come ha detto lui Ma che cazzo... Non possiamo restare Andiamo via da qui Guarda i vestiti Questa fabbrica è chiusa da un bel pezzo Negli anni settanta avevo ancora... Tutta la vita davanti Deve esserci un'uscita Forse al piano terra Per forza al piano terra Per forza chi E' spettore Per forza al piano terra E' spettare che E' spettare che E' spettare che Era perleben sentito veniva dal basso dobbiamo andarcene da qui ora pesa molto muovi il culo mi serve una mano che c'è tu da quella parte io da questa spingiamo insieme forza oh merda daniel stai bene aiuto a terra là stai bene devi aiutarmi a uscire forza ci sei quasi oh Oh! Oh! Non! Andriu! Daniel! Di qualcosa! Facci sapere come stai! Andiamo prima che succeda qualcosa. Daniel! Dove cazzo sei? Rispondimi! Quel mostro se n'è andato, ma potrebbe tornare anche adesso. Dobbiamo proseguire. Ciao! Professore! Professore! Ehi! Ragazzi! Andriu! Daniel! Oh, grazie al cielo! Pensavamo di averti perso. Ho avuto fortuna. Almeno una volta. Io pensavo di averti perso. Non è finita. Quella creatura non si arrende. Qualcuno ha visto la bambina? Mary? No, io no. No, io no. Può succedere di tutto. Occhi aperti. La tua esistenza è una minaccia per Little Hope, Joseph. Preparati a morire. Preparati a morire. La tua brama per Satana non ha risparmiato neppure tua moglie Emi. Fatemi ciò che volete. Ma esigo rispetto per la mia defunta moglie. Ancora non ti arrendi. Devo stirpare il demonio per il bene di tutti noi. Nessuno è al sicuro. Joseph, rinunci al diavolo e ai suoi dettami. Io non ho peccato. Non sono un servo del demonio. La città è corrotta dalla follia per colpa della... serva di Satana. Mary? Noi dobbiamo fermarli. Vattene! Dammela! Guardate! Guardate come soffre la fanciulla. Joseph la tiene soggiogata a Satana. Altre pietre! Il diavolo in lui deve essere schiacciato. Non fermatevi! Il destino di Little Hope dipende da voi! Cervo di AceUR 1 Un po' a Un e good fun! Si c'è gi Shimano che sta tornando da Matteo zodio. Un po' a Che è successo? Ditemelo. Non ci resta molto tempo. Tempo per cosa? Charles! Che stai facendo? Ora basta scappare. Sei impazzito? Dobbiamo andare! Johnny! Vieni, presto! Vieni, stronzo! Ti aspetto! Angela! Angela! Nooo! No! Ti è piaciuto, bastardo? Ti è piaciuto, guarda! Vieni dentro! Qui dentro! Andiamocene! Adesso! Il mostro vuole soltanto a me! A lui ci penso io! Ti puoi salvare anche tu! Scappa! Nessuno ti costringe! Non fare l'idiota! Vieni via! È andato! Io non la vedo più! Dov'è diavolo siamo finiti? Sembra che ci sia stato un rugo. Qui c'è qualcosa di strano. In questa città di merda tutto è strano. No! 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 Guardate un po' qui! Eravamo sposati. Sono sempre più confusa. Eravamo sposati. 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 Andrew. Che succede? Eravamo sposati. Eravamo sposati. Eravamo sposati. Mary usa la sua bambola come famiglia per servire il demonio. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary e Mary soltanto. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Ma questo non è vero! Bogiardo! Ora questa peccatrice. Questa figlia di Satana osa scaricare su di me un servo di Dio e i suoi crimini. È una follia. Questa gente ha perso del tutto la testa. Non intendevo arrecare danno alla città o agli abitanti. Potete aiutarmi? Che posso fare? Potessi intervenire per fermarli, lo farei. Persino nella sua ora più buia, questa degenere continua a invocare l'ausilio del diavolo. Chiedo il permesso alla corte. Ti prego di farmi da guida. Ti chiedo consiglio. E' uno strumento del demonio. Dobbiamo fermarli. La vera follia si nasconde in questa corte. Carver, è lui il colpevole. Siamo stati sviati dal male. La verità è stata occultata, ma non da Mary. È il reverendo Carver, colui che ci ha spinto a credere nel demonio. Taci! È tutta opera sua. Non ci incannerai più. Ormai le tue intenzioni sono evidenti. Io eppurerò questa città da qualsiasi male. Stai sbagliando. Carver non è la persona da accusare. Cosa devo fare perché a Little Hope torni la luce? Ho timore del reverendo e della sua reazione. Devi fermare Carver. È colpa sua, non capisci? Vuole condannare Mary per salvarsi la pelle. So cosa bisogna fare. Del reverendo le scuole di una cosa che vengono? Fogli a una cosa che vuoi M anxious. Ecco, che ha senso ha dalla indignazione. Ciò che ho appena udito mi disgusta nel profondo Dovrete rispondere di accuse estremamente gravi Come può un servo di Dio comportarsi in Cotalguisa? Mary, le tue pene sono finite Sei libera di andare Storti! Ingannati da una bambina! Non scorgete la sua natura La verità vi fissa dai recessi dell'inferno, eppure non vedete La figlia del diavolo ha ingannato voi Non me! Io lo so! Io lo so! Meretrice di Satana Pagherai per i tuoi crimini Sono stato tra i primi a cedere alle tue malie Ma ora tutta l'Italope è tua succube Non so sdebitarmi Senza di te sarei morta Mi hai salvata Ti ricorderò in eterno Non ti ho salvata Non ti ho salvata Pazzesco! Ha funzionato! Dici? È stata di sicuro la scelta giusta Il vero colpevole era quel bastardo di un prete Sì, già Dovrei essere sollevato, ma... Non è così Non... non provo nulla Dai Andiamo via Sembri soddisfatta Cos'è successo? È finita Ma ora Non è così Ehi! Mi dispiace. So che non è colpa tua. È stata dura per entrambi in questi ultimi anni. A un chilometro da qui c'è un locale. Hanno un telefono. Chiama i soccorsi e battene da qui. E non tornare più. Qui non c'è niente per te. Che sensazione fantastica, cazzo! Non fraintendetemi. È un vero sollievo essere tutti sani e salvi. Ma... Domani mi licenzieranno in tronco. Allora... Che sarà di noi, T? Non lo so di... Ma... Fatti sentire. Vediamo che succede. Mi spiace per quello che è successo stanno. Mi affliggerà sempre. Non sei qui da solo. Non essere severo. Abbiamo vissuto un inco. Questo lo sai, vero. Finalmente ce ne andiamo via. Vorrei ci fossimo tutti. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Tutto ok? All'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Ma la smettete di parlare! Non è così che troveremo aiuto. E neanche una via d'uscita. Nella, come va? Mi scusi, stiamo cercando il nostro autista. Come? L'ha visto? Sì, divertente. Perché non ti bevi un bicchiere? Meglio di no, grazie. Devo restare lucido. Se potesse... Sì, insomma, darci una mano. Gliene saremmo grazie. Darvi una mano! Cosa diavolo succede lì dentro? Devi scappare subito! Me ne andrò quando mi guarderai in faccia. Ora fammi entrare! Dubito si renda conto in che casino siamo. Sì, non ti beva mor bolderà! Buongiorno! Il nostro DB romanzato è già unaizione gente. Numo di umarca! Eccova amore! Chi va... Quello promanzato! Qualcую amore! Ci ballano di nascostalo... Lo scorer... Capqie! Ma quartz in maniera non... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.